Ma perché ce la faccia così rossa? Oggi un modo di dire molto veloce, scusate me, sono impegnato ragazzi. Oggi parliamo di to go down in history, to go down in history, che vuol dire semplicemente passare alla storia. This moment will go down in history. Questo momento passerà alla storia. This battle will go down in history. Questa battaglia passerà alla storia. He will go down in history as one of our greatest players. Ok, lui farà la storia, passerà alla storia come uno dei nostri giocatori migliori. A presto! A presto! A presto! A presto!